Di quest'uomo ti interessa sapere se somiglia più a suo padre, a sua madre o non ti importa. E di lui ti interessa sapere se di scarpe porta il 42, il 43 o non ti importa. E di loro ti interessa sapere se sono eterosessuali, omosessuali o non ti importa. Nella vita certe differenze non possono contare. Rifiuta l'omofobia, non essere tu quello diverso. Rifiuta l'omofobia.